Musica Ah hi people of youtube Welcome back to a new episode of Centro of the Third, a parte gli scherzi Benvenuti in questa nuova puntata Ci siamo lasciati la scorsa puntata Che siamo di nuovo risaliti su un altro aereo Siamo caduti un'altra volta Solo che questa volta abbiamo combinato Un casino, è uscito del gas Incredibile che ha fatto Succedere cose in un punto della città Quindi la missione di oggi è Attacco zombie E dobbiamo dirigerci 800 metri da qua Va bene Mi sembra giusto Eccomi Signor sindaco sono arrivato Confortarti bene Niente casinico il sindaco Tutti e due col cappello gigante Zambi Ho casato io il casino Ma ce ne occupiamo noi Mi piace il cappello Solo che nelle cutscene È tutto davanti agli occhi Devo togliere il cappello Lo adoro Ma devo toglierglielo Peccato Ma levatevi Vai via Anche tu Vieni viola Molto semplice Eccoci In arrivo Io volevo fare il salto Però mi stavo per schiantare Contro qualcuno Mi hanno dato lo strumento Adeguato Più che adeguato Sarò sincero Solo che Sti stronzi sono Veramente tanto Troppo aggressivi Quindi Come potete vedere Arrivano e menano In questo caso Prendete il mitra Che spara veloce Ah e tra l'altro Qua la stamina Vi si consuma Anche se avete la stamina Infinita E questa cosa È molto ingiusta Però Avendo Merda Carica 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 Vai via Nel mare Sto arrivando viola Non ti preoccupare Sto facendo barbecue Di zombie Merda Che palle Che la stamina Qua si consuma Muori Morite anche voi Stronzi Eccolo qua Il relito Dell'aereo Che abbiamo fatto schiantare Ma morite tutti Guarda Guarda quanti colpi Che stiamo sparando In quanta gente Stiamo uccidendo Una volta Tutta questa Era della povera gente Ora sono degli poveri Morti Viola Sono qui Non ti preoccupare Meno male che muoiono tutti Con un colpo Almeno quello Zombie Zombie Cos'era quella roba Che volava nel cielo Ehi Dovreste morire voi Lo sapete Eccomi Se riesco a salire Eccomi qua Ci penso io Dov'è il prossimo Contenitore Non lo so Aia Bastarda Beccati questo Beh mi sembra comunque Un buon piano Tanto alla fine abbiamo Munizioni infinite Ho la protezione Contro la Qualsiasi Quanto è fragile La vita umana Il prossimo Contenitore E' qua Ok c'è Un gigante E si è appena accorto Della mia presenza Ok Bestione Ucciso Io sono inseguito Da qualsiasi parte E non riesco A concentrare Il fuoco Su un'unica cosa Muori Oh e che palle Allora 3 2 1 Via 3 2 1 Vole in acqua Ci arriva 3 2 1 E' andato Oh no La nostra maschera E' stata distrutta Ok E' a 100 metri Chuck Ce la puoi fare Hai due minuti Per arrivarci Hai ancora tempo Tranquillo Tranquillo Ci siamo ormai Mamma mia Che Che fastidio Sto effetto E' E' fastidiosissimo Apri sta porta Ma c'è una Dei nostri Qua No Sì No è vivo Dove Non lo vedo Ah giustamente Questo posto E' mio Quindi E' normale Che è presidiato Da qualcuno Dei miei E' quello ormai Incastrato Lì bruciando Per sempre Ascolta Muoric Grazie Ma le Ma levatevi Deficenti Ma no Ho colpito anche in faccia Viola Viola Ehi Ciao Ma voi da dove Saltate fuori Come fate Come fate Stare qua Senza Senza la maschera Tra l'altro Tutti con me Dai Di solito Sono dalla mia parte Merda Scusatemi Non volevo Ma come hai fatto A prendere fuoco Che eri qua davanti A me Dai Ma morite tutti Che siete Solo tre modelli Tra l'altro Di zombie Siete tutti uguali Allora 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 Da questo lato Dai No 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 Dove stai andando Dove vai Da questo lato Vai 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 3 2 1 Forza In acqua Ecco fatto Ti aiuto io La star di Squadre Svuota A favore Nostro Quello sarebbe Un bel premio Beh Non è male Comunque Come premio No Avere il favore Del sindaco Beh Non è una cattiva idea No Però Mi dispiace Voi Dovete morirci E io Non ho tempo Di venire A salvarvi Viola Sbrigati Dobbiamo Prendere Un pulmino Un pulmino Mega super Circondato Dagli zombie Incredibili Ma levati Levatevi tutti E io Prendo Questo Viola Ci sei Brava E La cosa Comunque Più Giusta Giusta E logica Da fare È distruggere Per sempre Questo virus Anche se avere Degli zombie Dalla nostra parte Sarebbe interessante Però no Fatto E tra l'altro Abbiamo anche sbloccato L'obiettivo Di aver fatto il giro Milioni di chilometri La cosa No What the hell Are you doing There have been Some Complications Senator Complications Don't talk To me About Complications I want Results Results That authorize The use Of the Daedalus Che bel personaggio che sei 16.000 dollari 21.000 dollari rispetto al massimo Amico Bart Reynolds Amico supporto della SWAT E la maschera antigas E a zero notorietà E a zero notorietà della legge L'italiano oggi è andato a morire Quindi signori Io vi ringrazio per avermi seguito Come al solito se mi avete seguito Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto Noi ci vediamo al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti